Gli studenti internazionali sono a Milano circa il 10% del totale degli iscritti all'università. A loro si rivolge il Vade Mecum per la locazione abitativa a studenti fuorisede, realizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza-Lodi, dell'Unità Regolazione del Mercato e Sanzioni. Ha visto coinvolti i rappresentanti dei proprietari degli immobili, delle agenzie immobiliari e degli inquilini, oltre al rappresentante dei consumatori. Vuole essere una guida per gli studenti stranieri e non che vengono a studiare a Milano e che cercano un appartamento in affitto rivolgendosi al mercato privato, ma anche per i proprietari e le agenzie immobiliari. Descrive una serie di accorgimenti pratici con risvolti giuridici. Tratta dei vari tipi di contratti di locazione previsti dal nostro ordinamento, delle responsabilità delle parti e l'eventuale rapporto di solidarietà che esiste tra gli studenti coinquilini che condividono l'appartamento, dei subingressi, della durata dei termini della disdetta e la divisione delle varie spese. Questo vado a me è uno strumento molto pratico e decisamente importante per tutti gli studenti fuori sede che cercano un alloggio a Milano o che vogliono mantenere un alloggio, condividere un alloggio nella nostra città. Il tema abitativo è centrale, l'attenzione allo studentato straniero, ma comunque in generale fuori sede, è sempre stata dedicata dalla Camera di Commercio, tant'è che il protocollo Stadi in Milano risale al 2014 e con il 2019 è stato anche ampliato tutta una serie di attori come Milano in Partners, IES Milano, quindi Comune di Milano, ATS, Questura, Prefettura, l'Agenzia delle Entrate, otto università e sette istituti di alta formazione. Bisogna rilevare che a Milano sono state registrate circa 2.500 risposte grazie a un sondaggio che ha fatto la nostra Camera di Commercio all'inizio del 2021 e queste risposte corrispondono circa al 10% di tutti gli studenti internazionali che sono iscritti sul nostro territorio rispetto ai desiderata in ambito abitativo e il 61% di questi intervistati ha dichiarato di avere necessità di trovare maggiori soluzioni abitative, una piccola percentuale anche rispetto a quello che sono le offerte dei campus universitari e quindi stiamo parlando del 76-77% degli intervistati un po' allarmati da quello che è l'offerta abitativa. Di questi il 74% vorrebbe una soluzione dal mercato privato e di questi ancora più della metà lo cercano in coabitazione, quindi entrano in gioco tutta una serie di fattori di necessità ma anche di regole, diritti e doveri che questo Vademecum ha affrontato in maniera veramente esaustiva.